Roxy 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 Ciao a tutti io sono Roxy ed oggi sono qui con Mercedes E faremo la Protein Bar Challenge Le regole sono semplicissime, saremo bendate e dovremo provare diversi sapori di protein bars, barrette energetiche e queste cose qua Chi domina più sapori vince e chi perde farà la penitenza E la penitenza è che chi perde deve mangiare un pezzettino di tutte le Protein Bar insieme Oh mio Dio Ok E iniziamo Apriamo apriamo Non si può annusare Mangiamo Non vuoi Non vuoi Non vuoi Non vuoi Non vuoi Ragazzi la so ma non la so 3 2 1 Berry Arachidi e nespole No albicocchia albicocchia Ragazzi ho perso C'è il goji Sapete la bacca quella la? Lei ha detto frutti di bosco Qua c'è scritto tipo berry Quindi secondo me ha vinto lei I won that one No 1-0 Apriamo Apriamo Ok I want this one Non so, non so Non c'è Non c'è No Ok, ok, ho capito 3 2 1 Cioccolato in banco 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 Peanut butter Ragazzi se è aperto ma li devo mangiare tutte Ok Ah 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 Oh 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 no Questa naso è con la cortezza Eeeh Eeeh Ragazzi al centro è tipo liquido ma che è? 3 2 1 BISCOLATTO Ooooo CODITO COOKI DO COOKI DO COOKI DO COOKI DO COOKI DO Ragazzi al biscotto ho vinto ho vinto ho vinto Cioè non ho vinto abbiamo fatto pari quindi tutte e due se devo mangiare tutto Ta 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 Un pezzetto di questa Peanut butter Pezzetto di questa Ouji Ok un pezzetto di ogni FAMO LA PALLETTA TADAAAN Ready? No 3 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 17 18 22 21 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 25 26 25 26 26 27 28 29 29 30 Grazie a tutti